sul web gira questo filmato ora lo vediamo assieme di Randy Orton notato dagli studenti di una high school ad una partita di pallavolo che decidono di imitare una sua RKO Randy lo vedete bene adesso tra poco alla fine delle immagini che sorride eccolo lì in direzione della scolaresca in un recente live event come vedete HOMOS ha attaccato Cody Rhodes aiutando Dominic Mysterio per questo motivo in molti pensano che una delle prossime rivalità dell'American Nightmare possa vedere implicato il gigante nigeriano al momento fuori dagli show televisivi della WWE da parecchie settimane ecco un paio di cose interessanti su Tiffany Stratton iniziamo dal suo personaggio di debutto ad NXT la ricca figlia di Papino che lei stessa dice di avere ideato ma che è stato lentamente azzerato perché la dirigenza non aveva nessuno da proporre poi in scena come suo padre che peccato secondo me avrebbe spaccato di brutto Tiffany ha peraltro rischiato di esordire nei roster principali in un altro e differente ruolo e cioè quello dell'attuale Maxine Dupree e dunque come stilista della Maximum Male Models vediamo come avete risposto ai sondaggi della settimana potevate portarne a Vrestalmania solo uno e il 67 per cento di voi ha scelto The Rock il 16 CM Punk l'11 John Cena e il 7 Steve Austin i motivi beh me li avete scritti nei commenti The Rock infiamma ancora le platee come pochi altri e poi mi avete detto che rispetto ai nomi con cui l'ho messo in competizione manca da un match vero da più tempo e ci sta per voi CM Punk sarebbe un grande shock ma secondo alcuni si tratterebbe anche del trionfo dell'ipocrisia di un wrestler che andrebbe a contraddire molti dei valori che ha rappresentato John Cena e Steve Austin infine pur conservando uno zoccolo duro di appassionati ed estimatori raccolgono di meno perché in linea teorica potrebbero disputare match non avvincenti o comunque limitati e tra l'altro me lo avete segnalato è chiaro che attirino in maniera minore perché li abbiamo visti in azione anche di recente beh in generale avete praticamente centrato tutti i bersagli sono le stesse analisi e le stesse conclusioni a cui sarei giunto io però forse avrei dato qualche punto percentuale in più a Stone Cold perché una serie di batti vecchi e rissoni tra lui e quelli della bloodline con Austin che li manda a quel paese di riempie di cazzotti si beve la birra tira le stunner ecco tutto questo in anticipazione allo showcase degli immortali sarebbe comunque oro è chiaro lo può fare anche The Rock con un attacco dal punto di vista carismatico diverso ci sta che anche in linea con quello che abbiamo visto di recente si sia portato a casa la fetta più golosa della torta andiamo avanti tra chi in questo momento vi sta irritando di più tra i tre che ho scelto tutti molto simili con la lingua al veleno vince Austin Theory col 56 per cento delle preferenze seguono Grayson Waller col 34 e Demiz col 10 però qui la sensazione spulciando i vostri commenti è che l'astio provocato da Theory non sia un sinonimo di sta facendo bene il suo lavoro ma in qualche modo porti a galla un accertamento dell'anonimato in cui è precipitato e l'irritazione salga non per quello che dice o per quello che fa ma perché è ripetitivo e generico e ti fa venire voglia di cambiare canale per noia e non perché ti dà sui nervi quindi andando a cercare sotto la luce del mi irrita quindi mi prude ecco sotto questo riflettore paradossalmente Demiz e Grayson Waller risultano praticamente in parità io avrei dato il voto a Grayson Waller ma anche per incoraggiamento nel senso che Demiz ormai è una pietra migliare in situazioni del genere sa muoversi in maniera perfetta il suo è un talento innato un x factor quindi ecco a Grayson insomma una spinta no come a dire imita quella strada segui la scia fai come lui e direi che si sta già ben posizionando su Chad Gable vedo che la fiducia è in calo il fatto di non essere subito l'immediante nuovo avversario l'immediato nuovo primo sfidante di Günther ha abbassato le vostre speranze che diventi il futuro campione intercontinentale perché la domanda è sarà proprio Gable a strappare quella corona Günther e beh a credere in lui c'è il 32 per cento di chi ha votato a voltargli le spalle simbolicamente il 68 io credo che qui la wb abbia fatto un ottimo lavoro col maestro dell'alpha academy tramutandolo da arrogante e schizzinoso ad underdog padre di famiglia che lotta per un successo in singolo che gli sfugge da dieci anni tra l'altro se seguite video che pubblico con regolarità Gable ha anche parlato di come abbia discusso lungamente con triple h per capire anche come trasformarsi e come modificare il suo repertorio nel ring per renderlo ancora più incisivo e mi rendo conto che la sconfitta del leader dell'imperium oggi come oggi ha un valore eclatante il suo è un regno da record quindi capisco lo scetticismo su Gable però qui si è aperto un sentiero che se non chiuso lo può riportare al punto di partenza o quasi è un po' come prendere gli stivali con le ali e tenerli solo per un paio di mesi ecco mi spiacerebbe che finisse così ok quindi mi faccio guidare dal romanticismo e voto sì do la mano prendo a braccetto la speranza ben sapendo però che la ragione qua dentro dice guarda che il no è nettamente più improbabile andiamo a Naya Jets secondo il 69 per cento di voi non vincerà una qualsiasi cintura femminile entro la fine dell'anno il 31 per cento invece la pensa al contrario tra l'altro sul profilo youtube michele posa ho pubblicato una bella analisi tecnica su Naya se vi va recuperatela allora qui il problema è che la campionessa di raw ria replay non difende con grande continuità anzi sembra più interessata ad essere una colonna delle vicende del judgment day o addirittura in maniera più ridotta di quelle che riguardano dominic misterio e in più Naya con i suoi attacchi si è fatta subito altre nemiche oltre a lei con le quali poter aprire una rivalità sui stark ad esempio o shana basler certo ci sarebbe pure becky lynch a cui dare la caccia ma non è detto che the man resti campionessa di nxt a lungo e poi visto che parliamo di qualsiasi cintura femminile quelle immediatamente alla sua portata beh sono anche le corone di coppia però chi è che fa squadra con la jazz io credo che possa vincerle solo in situazioni molto particolari che vedrei piacevolmente tipo il tradimento di piper niven ai danni di chelsea green perché per l'appunto dopo che naya ha fatto capire che non cerca amicizie voglio vedere chi le si affianca con insomma il rischio che poi si perde il match naya ti mette le mani addosso quindi se a guidarci deve essere la logica in effetti in questi tre mesi e spiccioli che mancano alla fine dell'anno è complicato ipotizzarla al top di una divisione qualsiasi e dunque qua mi aggiungo alla maggioranza infine ultimo sondaggio della settimana e questa per me è una piccola sorpresa tra il giapponese wwe recente che più avete preferito tra i top stravince shinsuke nakamura col 47 per cento forse grazie anche alla recente rinascita come contender di set rollins secondo posto per asuka magari in fase leggermente calante ma pur sempre una big tra le donne i titoli li vince ancora magari a spizzichi a bocconi però l'abbiamo visto no e poi ha un passato chiaramente che non si può ignorare e proprio in virtù di quest'ultimo io pensavo che qui trionfasse lei e invece si deve accontentare dell'argento a seguire abbiamo yoskai col 17 per cento in grande crescita e decisamente apprezzata per il suo stile nel ring e ultima kairi sane fanalino di coda col 7 per cento ritenuta per lo più una gregaria di lusso ecco io credo di aver già scoperto le mie carte tra queste opzioni avrei votato asuka però sincero fino alla fine ammetto la tentazione di premiare proprio kairi quindi mi metto con gli ultimi ok un po per il personaggio della principessa pirata che a me piaceva tantissimo il look il timone il binocolo bello comunque qualcosa anche solo cosmetico ma differente un po perché nei roster principali ha dato parecchio nella divisione tech team proprio insieme all'imperatrice del domani con le kabuki warrior non ha vinto tanto ma ha fatto quello che doveva e non ricordo una brutta prestazione di kairi sane mi dà proprio la sensazione di essere quell'atleta che rispetta le consegne in maniera perfetta o quasi quindi un'idea di disciplina disciplina e di concretezza insomma close call come dicono gli americani con asuka davanti di pochissimo e alla fine avrei votato asuka probabilmente proprio perché l'abbiamo già detto è stata ai vertici della wii per un bel po mentre kairi non c'è del tutto arrivata ma potrebbe rifarsi tra qualche mese quando secondo i si dice dovrebbe tornare all'interno della federazione grazie a tutti